La semplificazione del regolamento sugli investimenti pubblici potrebbe essere vantaggioso per l'aeroporto Gino Elisa di Foggia, soffocato dalla lunga burocrazia che ormai da più di 4 anni vede in deposito 14 milioni di euro per l'allungamento della pista. Una grande risposta dall'Unione Europea, dove proprio da qualche mese giace una richiesta dai sostenitori dello scalo foggiano, giunta grazie all'impegno messo in campo dall'assessore regionale Raffaele Piemontese. La Commissione Europea ha approvato nuove norme sugli aiuti di Stato per porti d'aeroporti. A quanto pare si tratterebbe di regole che andrebbero a semplificare gli investimenti pubblici dei due settori, con l'obiettivo di creare posti di lavoro e stimolare la crescita del territorio, pur manterendo gli standard della concorrenza. Il regolamento attuato nei giorni scorsi a Bruxelles autorizza le autorità pubbliche a coprire le spese di funzionamento dei piccoli aeroporti, che gestiscono fino a 200.000 passeggeri l'anno. Questi aeroporti corrisponderebbero quasi alla metà di tutti quelli presenti sul territorio europeo. L'avvio di questa procedura, come viene segnalato dall'Unione Europea, offrirebbe un importante contributo alla connettività di una regione, ma difficilmente possono falsare la concorrenza. Ora, per il Ginovisa, tutto starebbe nelle mani delle autorità pubbliche e locali per l'avvio dei lavori tanto ambiti e mettere così in connessione il territorio di Capitanata con il resto del mondo.